...di un ensemble molto eterogeneo che si chiama I Filomusici, che prego di cominciare a fare l'ingresso sul palco. I Filomusici sono composti dalla corale Sant'Alfonso. Mi sentono? Ragazzi? Mi dicono che arrivano. Nel frattempo io intrattengo il pubblico parlando di questo progetto, un progetto complesso, un progetto molto variegato, ma che vede la corale di Sant'Alfonso, vede una band foggiana tra le più rinomate, tra le più vivaci del nostro panorama musicale locale, ma non solo perché suona con grande successo anche su tutto il territorio nazionale, parliamo di Ferro e Fuoco, l'elettrice aleatorale, ma nonché cantante solista, la nostra Ilenia Albanese, e di Filippo Torella. I Filomusici sono un progetto completo che alterna letture e momenti quindi recitati alla musica, quindi ancora per assaporare meglio l'insieme delle arti, di tutto quello che questa sera abbiamo potuto usufruire. Bene, si sono attrezzati, non me ne ho accorto, mi sono girato e li ho trovati tutti là. Perfetto. A voi Filomusici! Grazie. Grazie.